Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Prudenza per pioggia, in A1 tra Rioveggio e Firenze Sud, tra Valdichiana e Chiusi, in A11 tra Firenze Peretola e il PIVIA 11 Statale 1 Aurelia, in A12 tra Livorno e Rosignano. Raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Uno sguardo al traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tramvia, per il completamento dei getti della sede tramviale e dello scarico dei binari, via Valfonda sarà chiusa per due notti, dal 22 al 24 gennaio. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico navale per maltempo, il traghetto Piombino-Cavo-Porto-Ferraio delle 8.40, quest'oggi è cancellato. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!